Ministro Ottman, lei ha rimesso in piedi fior fior di giocatori, uno fra tutti è Francesco Totti, come l'ha trovato il calciatore? Cos'è successo? Ma certo, quello che abbiamo deciso di fare l'avevamo deciso in questo ultimo mese, 15 giorni, adesso non mi ricordo da quando è iniziato a visionare il pregresso. Le dico, aveva un'instabilità del ginocchio, aveva difficoltà nel suo recupero, per cui abbiamo deciso di fare una revisione dell'intervento effettuato precedentemente e quindi è stata fatta questa revisione, cioè ricostruito il crociato, prendendo l'altro tendine rotulio dell'altra parte, adesso lui ha un problema a sinistra e abbiamo preso il tendine della rotola di destra. Quindi adesso proseguirà nel protocollo riabilitativo. Professore, giusto per fare chiarezza, senza dover dare responsabilità ad altri dottori, ma lei ha recuperato determinati attori? Io vedo l'acqua che passa sotto il ponte, non quella che è passata. No, appunto, questa sindrome del ciclope... Io vedo l'acqua che passa sotto il ponte. Professore, i tempi di recupero a questo punto? Dopo un anno e mezzo che un giocatore gioca, è un po' difficile dare dei tempi di recupero, ritornerà a giocare. Questa è una promessa da chirurgo, mezzo tifoso, e quindi penso che torni a giocare. Senta, professore, psicologicamente come ha trovato il ragazzo? Beh, ha avuto un mese estremamente duro. Oggi era sereno, sorrideva tranquillo. Fino all'altro giorno, fino a due o tre giorni fa, era sotto un treno, come si dice a Roma, ovviamente. Nel senso che era depresso, dispiaciuto, aveva varie opzioni. E poi stamattina invece era sereno, sorridente, quindi tutto a posto. Professore, lei ha detto che tornerà a giocare, ma riuscirà a tornare lo stesso Strootman, il grande giocatore che era prima di questo calvario? Io riparo, non guarisco. Senta, il posto operatorio, ci saranno altri interventi, ci saranno la riabilitazione? No, chiaro, eh. La riabilitazione, quali saranno gli stati? I stati e i stati verano decisi dal sottoscritto e dallo stati medico con cui c'è ampia sintonia. Quindi abbiamo... Stat medico della Roma? Sì, sì. Abbiamo già stabilito una linea di condotta, dei tempi, dei protocolli e quindi da questo punto di vista sono sereno e tranquillo che possa continuare a fare la sua rieducazione in Tricoria. Ok. Anche le domande? Quindi l'intervento è davvero ben riuscito? È davvero? Ben riuscito, cioè se lei è soddisfatto... Io sono soddisfatto, da lì a dire che è riuscito lo sapremo tra due mesi. Il chirurgo, l'ortopedico non lo sa mai immediatamente, può essere soddisfatto e può andare meno bene e questo è quello che è venuto nel pregresso, probabilmente anche il chirurgo precedente era pienamente soddisfatto e quindi come vede la medicina è qualcosa di meno matematica. Eh sì. Professore, ma entrando proprio dentro il ginocchio ha riscontrato qualche errore per quanto riguarda le operazioni precedenti? No, no. Io sono andato solo a rifare quello che dovevo fare. Punto. Quando uscirà dalla clinica? Anche questo lo vediamo insieme al giocatore e insieme allo staff medico. Non le so dare una risposta. Bene. Grazie. Grazie. Grazie.